Lezione 52 Arrivederci a Seoul Fra mezz'ora parte il mio volo E' meglio entrare adesso Maria, non so come posso ringraziarti No, figurati, siamo amici Vorrei rivederti in Corea al più presto Pezzo di andare a Seoul per le prossime vacanze estive Va bene, ti aspetto Arrivederci a Seoul Allora ci sentiamo Arrivederci Fra mezz'ora parte il mio volo E' meglio entrare adesso Maria, non so come posso ringraziarti No, figurati, siamo amici Vorrei rivederti in Corea al più presto Penso di andare a Seoul Per le prossime vacanze estive Va bene, ti aspetto Arrivederci a Seoul Allora ci sentiamo E arrivederci Lezione 52 Lezione 52 Arrivederci a Seoul Fra mezz'ora parte il mio volo E' meglio entrare adesso Maria, non so come posso ringraziarti No, figurati, siamo amici Vorrei rivederti in Corea al più presto Penso di andare a Seoul per le prossime vacanze estive Va bene, ti aspetto Arrivederci a Seoul Allora ci sentiamo Arrivederci Tra mezz'ora parte il mio volo E' meglio entrare adesso Maria, non so come posso ringraziarti No, figurati, siamo amici Vorrei rivederti in Corea al più presto Penso di andare a Seoul Per le prossime vacanze estive Va bene, ti aspetto Arrivederci a Seoul Allora ci sentiamo E arrivederci A presto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.